bella ragazzi bella allora primo live su GDA5 in helicopter dove andremo oggi guarda che robe dove andremo oggi eeeh bah che ne diresti di fare un po' di casino per Los Santos Los Santos oh proviamo ad andare a prendere intanto visto che sono in elicottero mettimi la destinazione no non in aeroporto quello la di Ford Zancudo si si vai vai what's up attento oh vedi che io non ho il paracadute no no spero di non a terra e non nell'hangar ok un attimo di concentrazione vedo nessun aero eccole la 4 stelle ok ok ecco lì i razzi via via da qui non ci arriverò mai non ci arriverò mai eccoli là vabbè andiamo in città io direi di fare un po' di casino no perché mi stanno sparando ah ok ma non ti ferisco vero no 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 sei un cuglione ah qui è morto io Sì, sì, sì. Grazie a tutti E' perchè io sto guidando e sparando con le furanamente E' un po' difficile la cosa E' un bel po' difficile Allora 4 stelle ragazzi Via via via, fai lo sprint Ragazzi che giochi Come ci possiamo permettere questi giochi Di prestigio Proviamo ad arrivare a 5 stelle E vediamo se riusciamo a seminare Oddio Mamma mia Giochi Ok No Eh infatti Dobbiamo prendere un'altra macchina Perché questa qua non regge Oh Oh che lag Nooo Massacrato Adesso ha l'agro Quì Mamma mia Ok Non corro più Adesso arrivo in questo soccorso Adesso arrivo in questo soccorso Adesso arrivo in questo soccorso Non so se nessuno mi ferma Incredico Che come se avessi un carro armato Non so se riesco a uscire Ok Via 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 Vai 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 Fai tutto lanciato verso la direzione è sbagliata attenzione verso l'orizzonte faccio poco di soppressione è il gioco per scassare tutti i grilletti attenzione verso l'orizzonte è il primo live su GTA V e vabbè spero vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un like e un commento e vabbè dai The3Gamers è praticamente tutto e bella grazie a tutti